Sì, questo è Mauro con il Commodore 16, questo è un video però. Ah, un video? Dunque, allora, questa macchina nasceva... Aspetta, aspetta, ma tu chi sei? Eh? Tu chi sei? Ah, ecco, allora va bene. Non infilo il gettore. Aspetta, aspetta che arrivo. Continuo a filmare. Sì, sì, se ti preoccupare. Questa, ma... Oh! Su questo è l'altro Metal Gear. Toalette. Sì, sì, direi di sì. Su questo qui è l'altro Metal Gear. Aspetta, no, aspetta, che qua. No, no, ma quello c'è l'altro qui. Questo è lui che va bene. Ti devo discutere bene il mio sânio. Il sânio è una brava... Sânio? Il sânio è una brava... Sânio è una brava... Sânio è una brava... Sì, qua qualcuno fu stito ma ha detto Svavo. Perché? Cioè, qua dentro... Anche il dischetto. Il dischetto... Alien Brit. Alien Brit che lo ricordiamo originalissimo. Eh sì, guarda, guarda, guarda. Non vedi, eh? Le case per risparmiare... Sì, sta un po' originali. Svegliamo nei cinesi lì, poi ce l'ho scritto tutti a mano. Sì, sì. Sì, scoppi. E niente. Miridia di scottone, grazie. Comodo 16, anche la nostra macchina interessante. Ah, sapone di martiglio. Ma miracoli. Ah, ecco. Il segreto delle pulizie. 8000 l'amopo. Quale mille, amica? Il mille mille? Il mille... Questa mille mille. Il porto è il 48k che mi è arrivato là. Oh, il detesto è qui. Oh, quello non ha un drapio. Ed è perfetto. Oh, è il vetro. Sì. Oh, scusate. Il collezionista si sta incontestando nel costo. Il microdive è quello. Commodore 16. Qualcuno sbava? Amica 1200. Sto sbavando la telecamera. Togliamo le bave, vai. Ha, 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 ha.